Musica Prima edizione del nostro telegiornale, buongiorno e bentrovati. Apriamo parlando di un'inchiesta della Procura di Catania sulle modalità di erogazione dei fondi stanziati per il terremoto del 2018 sull'Etna. Notificate 36 istanze di riesame ad ex amministratori comunali e a cittadini di ACI Sant'Antonio. Mario Grazio. Ad ACI Sant'Antonio, comune del Catanese, ex amministratori e cittadini sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura della Repubblica di Catania a seguito di un'inchiesta che sarebbe stata aperta già anni fa sui fondi erogati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018. Sarebbero state notificate dai carabinieri 36 istanze di riesame. Il terremoto di Santo Stefano innescò a favore dei comuni colpiti dal sisma una serie di misure anche economiche volte alla ricostruzione da un lato e dall'altro attivate per il sostegno delle famiglie costrette a lasciare temporaneamente le unità abitative offese dalla scossa tellurica. Una indagine ampia che mirerebbe alla casa comunale che sarebbe partita da alcune segnalazioni e che nel tempo si sarebbe ancora più allargata dopo indagini tecniche e ambientali su altri versanti. Tanto che la Procura avrebbe già avanzato richiesta di misure cautelari però rigettate dal GIP se ne riparlerà il 13 settembre in sede di riesame. Nel corso dei mesi sarebbero stati sentiti ex amministratori comunali e cittadini alla fine di ricostruire la vicenda che in queste ore sta animando il dibattito da C. Sant'Antonio Comune è andato al voto qualche settimana fa dopo il decennio a guida a Santo Caruso eleggendo al secondo turno Quintino Rocca assessor uscente così come assessor uscente era lo sfidante al ballottaggio Giuseppe Santamaria. Adesso a Palermo dove è stato arrestato il pusher dei VIP tra i clienti ci sarebbe anche l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciche io ho la coscienza a posto la replica dell'ex coordinatore regionale di Forza Italia. Sentiamo Luca Licata. Finisce agli arresti domiciliari Mario Di Ferro, chef palermitano gestore del noto ristorante Villa Zito nella centralissima Via Libertà secondo gli inquirenti Di Ferro avrebbe venduto droga a diversi clienti della Palermo Bene tra questi figura anche l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciche il quale però non è indagato mai acquistata cocaina dallo chef non andavo da Di Ferro per comprare droga, non andavo lì per rifornirmi sono state le parole di smentita di Gianfranco Micciche rilasciate poco dopo la notizia dell'arresto del ristoratore sono dispiaciuto per Mario Di Ferro e un caro amico che conosco e frequento da moltissimi anni andavo alle sue feste che erano sempre molto divertenti frequentate da tantissima gente e dove non ho mai visto della droga ha raggiunto l'ex commissario di Forza Italia in Sicilia i guai per lo chef sono iniziati lo scorso 4 aprile quando i poliziotti della Mobile lo avevano fermato mentre scedeva una dose di cocaina ad un burocrate a contratto dell'Ars Giancarlo Migliorisi all'epoca a capo della segreteria tecnica della presidenza dell'Assemblea dopo che la vicenda divenne di dominio pubblico Migliorisi venne sospeso dal presidente dell'Ars Galvagno con effetto immediato dalle indagini proseguita in questi due mesi dopo che esploso il caso sarebbe emerso come il ristoratore avrebbe avuto un ruolo da protagonista all'interno di un'intensa attività di vendita di cocaina destinatari della droga una clientela selezionata VIP, politici, imprenditori e professionisti vari i quali avrebbero chiesto allo chef dosi utilizzando espressioni colorite un modo per ingannare una delle basi operative dello spaccio secondo gli investigatori sarebbe stata proprio villazzito a riprova di ciò le riprese delle telecamere piazzate dalla polizia all'esterno del ristorante le misure cautelari disposte dal giudice oggi sono state in tutto 6 a finire agli arresti oltre allo chef anche Gioacchino e Salvatore Salamone già condannati in passato per spaccio obbligo di firma per Gaetano Di Vara Giuseppe Menga e Pietro Accetta l'inchiesta è coordinata dal procuratore del capoluogo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido agli indagati sono contestati diversi episodi di vendita e cessione di droga a clienti della Palermo Bene si tratta di un'indagine nata per caso dopo che scoppiata però ha fatto tremare i palazzi del potere 30 ettari di terreno andati in fumo non uno dei tanti incendi che si registrano in questo periodo dell'anno ma il rogo l'ennesimo che colpisce la cooperativa agricola Rosario Livatino Libera Terra di Naro nell'Agrigentino coltivazioni su un fondo confiscato alla mafia nel 1992 dal Tribunale di Agrigento incontrato a Gibesi e assegnato al Rosario Livatino Libera Terra nel 2015 il danno provocato alla Coppa è stato quantificato in circa 20 mila euro ed è coperto da assicurazione indagano i carabinieri già lo scorso anno andarono in fumo 10 ettari di terreno coltivato a grano e poi i campi coltivati a lenticchie ma anche negli anni precedenti sistematicamente la cooperativa ha subito intimidazioni dello stesso tipo. Lo scorso anno istituzioni e parti sociali fecero una marcia sui terreni confiscati alla mafia durante il sit-in i sindaci di Naro, Canicattini e Favara evidenziarono come fosse necessario ricostruire il consorzio dei comuni per la gestione dei beni confiscati. Proseguono senza sosta a Lampedusa gli sbarchi di migranti diversi salvataggi da parte di Guardia Costiera e Guardia di Finanza così come gli arrivi autonomi hotspot di Contrada in Miriacola nuovamente pieno nonostante i trasferimenti. Sbarchi senza sosta a Lampedusa e Isola delle Pelagie ormai sotto assedio. Sono 974 i migranti sbarcati dalla scorsa notte 21 i barchini che sono stati agganciati o soccorsi da motovedette della Guardia Costiera e delle Fiamme Gialle con un minimo di 27 persone a bordo e un massimo di 133 alcuni sono riusciti a raggiungere direttamente l'isola e bloccati a terra dai finanzieri a Molo Madonnina e Cala Francese. Le imbarcazioni su cui viaggiavano sono state sequestrate. I migranti arrivati nelle ultime ore sono andati ad aggiungersi ai circa 1.300 giunti ieri con uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza impegnati in un vero e proprio tour de force. L'hotspot di Contrada in Miriacola è ormai al collasso nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura d'Agrigento di Intesa con il Viminale, un lavoro senza sosta per alleggerire la pressione nel centro, dove stamani all'alba c'erano già 2.070 persone, una situazione di grande emergenza nella struttura, la capienza massima è di 400 unità. Gli ultimi arrivati sono salpati da Sfax in Tunisia, dove hanno pagato da 1.200 a 2.500 dinari tunisini ciascuno per la traversata. Una barca di legno di 6 metri con a bordo 27 tunisini, fra cui 3 donne, è invece partita da Kerkenna, sempre in Tunisia, e il viaggio è stato molto più caro, 7.000 dinari tunisini a testa. Altre tre carrette riuscite ad arrivare direttamente sulla terraferma di Lampedusa con a bordo bengalesi, marocchini, somali, egiziani, eritrei, sudanesi, marocchini, pakistani, siriani e ganesi, sono partite invece dalla Libia pagando da 3.500 a 4.500 dollari e 12.000 dinari libici a testa. Altri 234 migranti, tutti partiti da Sfax, che viaggiavano su 6 barchini, sono stati soccorsi in mattinata da motovedette della Guardia Costiera e Guardia di Finanza fra l'area SAR italiana e le acque antistanti Lampedusa. 44 invece sono stati bloccati dai carabinieri mentre erano in cammino sulla strada di Ponente. Il gruppo dovrebbe essere sbarcato a Cala Galera e a quanto pare due persone sarebbero rimaste nei pressi della costa. Sono in corso le ricerche dei due migranti e dell'imbarcazione utilizzata per la traversata, iniziata sempre da Sfax. Notte, l'ennesima di raid criminali ad Acideale, furto con spaccata in un ristorante del centro. Il sindaco Roberto Barbagallo scrive al prefetto e intanto dispone il potenziamento del sistema di videosorveglianza in città. 15 giorni di continua razia, i danni di istituti scolastici, attività commerciali, e i decinali rappresentano un record tra i reati classificati come predatori i più avvertiti dalla popolazione in una città estranea, a dinamiche criminali soffocanti. L'ultimo colpo nella notte è danno di questo ristorante del centro storico tra via Galatì e via Cavour, ad appena 100 metri dal palazzo municipale, ha spinto il primo cittadino Roberto Barbagallo ad intervenire attraverso un'accorata lettera inviata alla prefettura di Catania per chiedere il rafforzamento del controllo territoriale da parte delle forze dell'ordine, la cui opera rimane preziosa per la sicurezza dei cittadini, ma le ultime dinamiche delinquenziali susciteranno una certa apprezzione tra le istituzioni civili e non solo. Nell'ultimo mese si sono registrati furti a raffica, in particolar modo nei pressi scolastici dove sono stati depredati i distributori automatici di merendine e bevande, ma anche diversi studi medici e attività commerciali, eppure la chiesa dei Cappuccini è stata presa di mira dai malviventi. Gli investigatori dei Carabinieri e Polizia di Stato del locale commissariato hanno potenziato i controlli e individuato alcuni autori dei furti segnalandole all'autorità giudiziaria, soprattutto un giovane di circa 30 anni, da tempo nota le croniche assuntore di cocaina e ladro seriale, con alle spalle una situazione familiare difficile. Ma non sarebbe solo il responsabile dei furti che da settimane sfreggero il buon nome di Escirale, peraltro in un periodo dell'anno in cui si registra una considerevole ripresa turistica, anche grazie ai tanti imprenditori che hanno investito nella ristorazione i ritrovi per giovani. Il rischio di un'inversione di tendenza con la fuga degli investitori è concreto. Il sindaco Roberto Barbagallo si è già attivato, per quanto di sua competenza, per potenziare il sistema di videosorveglianza, un deterrente contro chi delinque e deturpa. Tutto così non va bene, ormai da almeno 15 giorni ci sono furti, continui furti, qualche spaccata a destra e a sinistra, nelle frazioni, al centro, quindi dobbiamo capire e intervenire immediatamente. Ringrazio sempre le forze dell'ordine per il lavoro che svolgono in città, però farò una lettera al prefetto e alle forze dell'ordine stesso perché ritengo che occorre in questo momento incisività, quindi occorre un rafforzamento soprattutto notturno. Noi in questo momento purtroppo abbiamo le nostre problematiche relative ai vigili urbani, ma cercheremo anche noi di fare il nostro lavoro, però ci aspettiamo che ci sia un intervento più importante, più massiccio a parte delle forze dell'ordine, affinché quello che sta succedendo da due settimane ad oggi non succeda più. Chiaramente è brutto vedere da parte di un commerciante arrivare nel proprio negozio e trovare il negozio aperto, una spaccata, piuttosto che il furterello, perché alla fine sono dei furti gravi, perché vanno immediatamente eliminati, ma alla fine parliamo di furterelli. C'è il danno alla beffa e un'immagine per la città che non va bene, soprattutto in questo periodo dove ci sono turisti che arrivano, soprattutto in questo periodo dove il centro storico sta funzionando, quindi io spero e sono sicuro che per come è successo in passato le forze dell'ordine interverranno e eliminano questo problema che da qualche settimana a questa parte assilla il sindaco, la città e tutti i cittadini. Per l'altro lei durante la sua prima sindacatura avviò quel grande progetto di videosorveglianza della cittadinanza che verrà potenziato. Sì, c'è stato un primo progetto, il sindaco lì ha presentato altre progettualità alla prefettura con cui mi sono appunto sentito e in questi giorni vedremo se andranno avanti e quando verranno installate queste ulteriori telecamere che servono sempre da deterrente e comunque a controllare la città e quello che avviene nella nostra città. Quindi ci spero tanto, però intanto occorre intervenire, occorre bloccare immediatamente quest'andazzo che non va bene per tutti noi, per i commercianti e per i cittadini. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato, eseguendo un provvedimento del GIP, 8 milioni di beni riconducibili a due imprenditori edili di Montelepre, Francesco e Vincenzo Iacona, di 69 e 39 anni, indagati per bancarotta fraudolenta. Le indagini condotte dai militari della compagnia di Partinico coordinate dalla Procura di Palermo avrebbero accertato che gli imprenditori delle due società avrebbero prelevato somme attraverso bonifici o soldi dai conti correnti aziendali per fini personali senza alcuna giustificazione per operazioni macroscomicamente rilevanti e sospette anche per l'assenza di giustificazione causale per oltre 1 milione e 300 mila euro. La gestione delle due società fallite avrebbe determinato inoltre un'esposizione debitoria errariale di circa 7 milioni di euro quantificata attraverso l'analisi economico-finanziaria delle fiamme gialle, nonostante l'assenza dei bilanci e della documentazione fiscale artatamente occultata per ostacolare la ricostruzione degli investigatori ai due imprenditori il GIP di Palermo ha applicato la misura del divieto di dimora nei comuni di Monte Lepre e Giardinello e il divieto di esercizio dell'attività imprenditoriale e di rivestire cariche all'interno di enti societari contestualmente, quale misura cautelare di carattere reale è stato emesso il decreto di sequestro preventivo per 8 milioni di euro Sta bene la cagnetta cacciata dal parroco di Monpileri a Masca Lucia e adesso accudita dalle volontarie che l'hanno strappata al canile ed ha dato alla luce nove cuccioli non si placano però le polemiche Salvo Couture Maria, il nome dato alla cagnetta dai volontari che l'hanno salvata dal canile in cui era stata ristretta su ordine del parroco della chiesa di Monpileri Don Alfio Privitera sta bene e ha dato alla luce nove cuccioli in attesa di adozione li vedete nelle immagini girate dalle volontarie la meticcia da tempo stazionava nella comunità parrocchiale della Madonna della Sciara integrandosi con l'ambiente senza dare alcun fastidio ai fedeli che anzi afferma Riccia di Mino una delle volontari che ha preso a cuore la storia di Maria salvandola dalle pene del canile accudivano la cagnetta offrendole anche del cibo come testimoniato dai video la vicenda di Maria a quale non a caso è stato dato il nome della mamma di Gesù ormai è di dominio pubblico a Masca Lucia scatenando polemiche posizioni di accusa contro i preti e quanti si sono schierati a favore della decisione del proprio parroco le volontarie hanno addirittura creato una chat una capanna per Maria cercando adesioni per dare un futuro alla randaggia e ai nove cuccioli dati alla luce tre giorni fa e al sicuro lontano da quel luogo di cristiana accoglienza per tutti eccetto i cani accusa la volontaria la cagnetta è stata scacciata giovedì scorso dal santuario di Montpilieri dalla persona di padre Alfio che ha alzato la voce chiedendo che la cagnetta venisse prelevata e così è stato la cagnetta giovedì mattina è stata prelevata dal canile portata in canile io sono stata avvisata dalla volontaria del canile e immediatamente ho fatto in modo di poterla recuperare io cercando disperatamente uno stallo nel pomeriggio grazie a un'altra volontaria devo dire c'è un bel gruppo di volontari è qua a Mascaluccia ci aiutiamo tra di noi abbiamo trovato uno stallo che il comune ci aveva messo a disposizione e l'abbiamo portata là lo stallo poi il giorno dopo ci è stato tolto però ne abbiamo trovato un'altra ancora comunque una bella battaglia ci sono dei video in cui durante il pellegrinaggio del 30 maggio Maria sta in mezzo a migliaia di persone si muove con naturalezza non aggredisce nessuno anzi i bambini che la carezzano le persone che le danno un crackers il proprio panino bellissimo anche vedere queste scene quindi non capisco perché padre Alfio non l'abbia voluto accogliere al santuario poi cacciarla in canile proprio nel momento più delicato per una cagna la fine di gestazione infatti Maria poi ha partorito tre giorni dopo avete parlato col prete di questa scelta in qualche modo motivata? allora noi abbiamo provato a parlare l'altra volontaria che collabora con me Barbara la mattina stessa che la cagna è stata portata in canile è andata al santuario ha cercato di parlare con padre Alfio padre Alfio si è rifiutato di parlare lei nonostante questo rifiuto gli ha mandato un messaggio su whatsapp padre Alfio ha detto che se lei lo avesse importunato ancora avrebbe chiamato i carabinieri a Montpilieri il parro con Alfio Privitera da noi contattato non ha voluto replicare le parole della volontaria temendo che le sue dichiarazioni potessero essere tagliate o peggio travisate a dimostrazione che il clima è incandescente Don Alfio Privitera pare abbia sporto denuncia stanco di subire attacchi e accuse giustificate scegliendo di tenere un profilo basso a suo fianco si sono schierati i parrocchiani non è giusto che un cane sta qua specie là sotto nella grotta che faceva tutto quello che doveva fare e basta così mentre una dice le preghiere non è giusto manco io posso essere anche sbagliata però la mia opinione è questa se ci interessa di avere un cane che loro gli danno da mangiare poi lasciano lo schifo tutti i piatti tutte le cose e non vengono neanche a pulire per me non è giusto se ti fa questa pena questo cane quello che è cane, femmina, maschio portatelo a casa e lo accudisci non che lo deve accudire in un altro posto e lasci lo schifo per me quella signora è sbagliata ha rimproverato patriarca ha rimproverato anche me io perché me ne sono andata ma ha aperto la bocca che pareva un serpente la notte scorsa a Catania uno dei cancelli di sicurezza che durante le partite cintura la parte esterna dello stadio Angelo Massimino è caduto al suolo i residenti hanno sentito un brusco tonfo avvertendo poi la polizia municipale fortunatamente nessuna conseguenza si è verificata data l'ora tarda stradina comunale di Viale San Teodoro a Catania invasa dai rifiuti fa arrabbiare la storia della spazzatura disseminata in questa piccola stradina siamo al civico 6 del Viale San Teodoro di Librino Cuore della Nuova Catania che però troppo spesso nel corso del tempo è rimasta ai margini della stessa city etnea una segnalazione pervenuta in televisione parlava di una stradina letteralmente invasa dai rifiuti dove alcuni giorni per il continuo formarsi di discariche risultava persino impossibile accedere alle abitazioni anche pedonalmente ebbene la situazione che invece si è aperta davanti alle nostre telecamere è apparsa ancora più grave perché non solo non è possibile accedere nemmeno pedonalmente ma spesso e volentieri quel sito diventa una sorta di bomba ecologica pericolosa per i continui ruoghi che in quel posto si verificano ovviamente non per autocombustione e a cui sono chiamati ad intervenire i vigili del fuoco anche ieri il rogo che incendia e i fumi che appestano l'aria anche nel sito sportivo dei briganti che dista davvero un tiro di schioppo la situazione raccontano i residenti ormai standardizzata da anni diverse le richieste di bonifica ma poco nulla sin cui è stato fatto ma non ha già da poco ha tre anni che chiede a maiuto solo che nessuno è venuto a darci una mano ovviamente vengono però ripetutamente i vigili del fuoco per per spegnere il fuoco perché non solo qui danno c'è scarica o no di tutto c'è pure internet qua dietro ma anche prendono anche tutte cose a fuoco solo per scaricare di nuovo sempre spazzatura voi chiedete che cosa? di darci una mano e pulire tutto qua perché ho un bambino ovviamente di un anno e non può respirare tutta questa spazzatura anche perché è già una cosa che è ripetuta nel tempo sì certo già ha tre anni che combattiamo con questa spazzatura che abbiamo a casa nostra e non è giusto siete andate al comune avete parlato con qualcuno? abbiamo chiamato solo che hanno rifiutato tutti quanti nessuno ci ha dato la mano e noi siamo stati costretti a chiamare voi la televisione come amplificatore della Voce del Cittadino anche per Librino anche per questa stradina al Civico 6 del Viale San Teodoro lavori pubblici e trasparenza incontro nella sede dei costruttori edili siciliani si è parlato anche di caromateriali e alta velocità si è parlato dell'avvio dei cantieri digitalizzati con tecnologia integrata BIM un sistema che assicura trasparenza e punta a rendere impermeabile alle infiltrazioni criminali l'intero percorso dell'opera dal progetto all'appalto fino alla fornitura di personale l'incontro dell'Ance Sicilia che si è svolto stamattina a Palermo è stata un'occasione per dibattere i temi riguardanti frontiere attuali e future l'associazione nazionale costruttori edili è in prima linea anche sul fronte caromateriali problematica che ha messo negli ultimi due anni in serie difficoltà le imprese siciliane che hanno anticipato importi considerevoli le imprese da questo punto di vista stanno male nel senso che non hanno ricevuto a oggi tutti i rimborsi dovuti teniamo conto che sono dei rimborsi cioè le caromateriali cioè le aziende hanno anticipato questi importi e hanno richiesto questo rimborso per cui da questo punto di vista stiamo soffrendo è da due anni che soffriamo questo problema dal 2021 al 2022 e ora si è prorogato al 2023 abbiamo sofferto all'inizio e soffriamo ancora per il 2021 per il 2022 le cose vanno un po' meglio bisogna distinguere fra i progetti di matrice PNRR e non PNRR per ultimo dobbiamo ricordare un intervento nell'ultimo decreto del ministro Salvini che ha ammesso l'autocertificazione per i rimborsi per cui si farà l'autocertificazione e il ministero delle infrastrutture farà dei controlli a campione su queste richieste quindi questo diciamo come dire accelererà molto il processo di controllo e verifica da parte del ministero perché già tali istanze sono state verificate dalle stazioni appaltanti di partenza quindi questo ci fa ben sperare per il futuro diciamo che ci sia un atteggiamento diciamo più veloce e più snello diciamo della burocrazia si è fatto il punto anche sui cantieri RFI dell'alta velocità sulla linea ferroviaria Palermo Catania-Messina per la progettazione e il controllo dei lavori è stata utilizzata la tecnologia BIM il nuovo collegamento Palermo-Catania-Messina è stato tutto appaltato e le prestazioni sono state consegnate per tutti i lotti sia per i sei lotti della Palermo-Catania sia per i due lotti della Catania-Messina quindi sono tutti operativi il progetto di questi lotti è stato effettuato col BIM che è uno strumento nuovo che digitalizza l'intero progetto e quindi da questa digitalizzazione si può tirar fuori una serie di risposte molto interessanti oltre che la progettazione serve anche per il controllo dei lavori utilizzando strumenti moderni che vanno dai classici computimetrici rilevati a mano fino all'utilizzo dei droni per riprendere delle situazioni che appunto essendo poi riscontrabili con un progetto digitalizzato è possibile fare anche un avanzamento dei lavori molto interessante Il Palazzo Riela di Mister Bianco un bene confiscato alla mafia ospiterà gli alloggi di servizio destinati al personale dell'arma dei Carabinieri ne dà notizie il generale di divisione Rosario Castello comandante della legione Carabinieri Sicilia nel corso di una visita al comune di Mister Bianco durante la quale è stato ricevuto dal sindaco della città Marco Corsaro il generale Castello ha ufficializzato lo stanziamento dei fondi da parte del comando generale che serviranno per la ristrutturazione e riqualificazione entro il 2027 dell'intero immobile un edificio composto da sei piani fuoriterra e dieci unità immobiliari per una superficie complessiva di 2758 metri quadrati la base di Maristaeli compie 60 anni oggi cerimonia commemorativa a Catania mentre sabato prossimo in programma l'Open Day Francesco Larosa la base elicotteri di Maristaeli a Catania compie 60 anni nata nel febbraio del 1963 come eredità del primo gruppo elicotteri operante nel piccolo eliporto di Augusta la base elicotteristica catanese venne alla luce con l'obiettivo di potenziare la componente elicotteristica della marina oggi ne sono parte integrante il secondo e terzo gruppo elicotteri con Maristaeli Catania che dipende dal comando in capo della squadra navale per il tramite del comando delle forze aeree nei suoi 60 anni di vita la base è stata particolarmente attiva sul territorio rappresentando un'eccellenza professionale attiva come ampiamente riconosciuto per il ruolo svolto 60 anni sono un bel traguardo considerando che poi questa è la prima base elicotteristica della marina militare nata nel 63 appunto sul seguito del primo piccolo maria eliport che c'era ad Agusta quindi è un'occasione importante per noi nel 63 nasce la base nel 64 nasce l'allora ufficio corsi e tirocini dove venivano formati tutti gli equipaggi di volo della marina militare ufficio corsi e tirocini che da quest'anno dai primi mesi di quest'anno ha cambiato anche denominazione in centro formazione equipaggi di volo perché abbiamo dato una nuova connotazione ed ha assunto un ruolo molto più importante rispetto anche al passato stamattina la cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità mentre nella giornata di sabato prossimo primo luglio dalle 9.30 alle 18 si terrà l'open day con la base aperta alla cittadinanza e la possibilità di visitare le strutture assistendo a varie attività dimostrative per conoscere più da vicino gli elicotteri fondamentale l'addestramento in un'area particolarmente impegnativa e collegata anche a tanti rischi che è quella delle operazioni aeree che sono essenziali per l'operatività della squadra navale è quella che noi chiamiamo manovra della squadra navale che ci vede impegnati in tutta quell'area che va sotto il nome di Mediterraneo allargato concetto geopolitico e geostrategico recentemente citato dal presidente Meloni durante una visita in India dal capo dello Stato nel suo discorso di fine anno quindi dall'Atlantico dalle coste orientali degli Stati Uniti fino al Pacifico passando per il Mediterraneo incluso l'Atlantico il Golfo di Guinea il Mar Rosso il Golfo Persico l'Oceano Indiano e il Pacifico ci sono nostre unità navali quest'anno nel 2023 proprio nel sessantesimo anniversario viene costituito adesso il terzo polo a Maristelli Catania nel senso che oltre agli elicotteri H-101 e agli AB-212 verranno i modernissimi ultimi SH-90 che sono la spina dorsale delle forze aeree saranno a bordo delle unità tecnologicamente più avanzate e quindi piano piano rimuoveranno gli attuali AB-212 ecco gli SH-90 sono davvero lo stato dell'arte con spiccate capacità antisommergibili con capacità di trasporto tattico logistico a supporto anche della brigata San Marco dei nostri incursori una macchina molto versatile molto potente molto avanzata quindi questa sarà l'evoluzione dell'immediato che riguarda il parco degli aeromobili di Maristelli Catania Si è insediato il nuovo consiglio comunale di riposto nella Casa Bella è stata eletta presidente si è insediato il nuovo consiglio comunale di riposto con il neosindaco Davide Vasta che ha prestato giuramento eletto nella sua carica anche il nuovo presidente del consiglio comunale si tratta di coleghi che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima tornata elettorale tante le buone intenzioni palesate da Nella Casa Bella all'indomani della sua proclamazione le donne come dico sempre hanno una marcia in più hanno una forza in più e io mi sento una donna determinata è piena di voglia di fare è un incarico che mi dà una grande responsabilità e per il quale ringrazio innanzitutto il sindaco e i consiglieri comunali per la fiducia che mi hanno accordato sicuramente come ne dicevo prima è un incarico di grande responsabilità ma che mi accingo ad espletare nella piena responsabilità nel rispetto delle regole e mi auguro che questo sia un consiglio che possa rappresentare la casa di una buona politica una buona politica basata sul rapporto di costruzione di dialogo perché in fondo il fine ultimo di chi amministra è quello di fare il bene della cittadinanza e dei cittadini nel rispetto appunto dell'incarico che i cittadini ci hanno conferito accodandoci la loro fiducia che è quella appunto di fare il bene del nostro territorio ci fermiamo c'è la pubblicità subito dopo le previsioni del tempo e le eventuali ultimissime come sempre dopo la pubblicità diamo uno sguardo alle previsioni del tempo in Sicilia per la giornata di domani venerdì 30 giugno ultimo giorno del mese il cielo sulla Sicilia sarà sereno o parzialmente nuvoloso nel versante orientale dell'isola i venti assenti i mari calmi le temperature oscilleranno da 15 gradi a Enna a 37 a Siracusa a Catania e nell'Interland 21 gradi la minima 34 la massima le altre in grafica è tutto per questa edizione del telegiornale che potrete seguire su internet sul nostro sito all'indirizzo reitv.it e anche sul nostro canale youtube un nuovo appuntamento in diretta con delle informazioni invece questa sera alle 19.45 per il momento grazie per averci seguito e a voi tutti buon pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.